Sì, vengo volentieri visto che non sono andato via in quei giorni qua un bel giretto lungo ci vengo volentieri a farlo Abbiamo uno scalatore che dobbiamo ancora farlo venire qua Se viene, è l'unico scalottio pronto a vedere Non so se sono in grado di fare Mi dico il regio Vogliamo evitare cattiva Fai il reggio Mi dicevo qui ma la Laidea è girata in cinquanta o il calore Quando avevo spiegato Dio? Non dicevo Aspettate Ma qua, l'ho detto questa rapatente Non avremmo più camminato Ma, dai ma c'è qualcosa di chiaro, non c'è nessuno non c'è nessuno sei formato dietro? si anch'io ce ne ho un po' preferisco un po' ma io mi sono portato tutta quella che mi era rimasta 20-50 euro si bello si bello nerni c'è stato un po' Grazie a tutti 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 No, è stato qui dietro Grazie a tutti 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 eh sono arrivato di spinta cazzo non mi ricordavo no infatti ho dovuto rarantare di botto dopo vi ho perso solo che andavate a sassato ho provato a rincorrervi solo che è stato lì dove sono saltato le feste che chiudono l'occhio mi sono aperto mi sono aperto nelle capsule di camion ho sputato l'ultimo infatti io devo passare ho tre cartucce da sparare le altre hanno sbagliato adesso però pago eh quella è la velocità di fine un po' bello adesso andare su da cosa andare sul piatto andare dove? qua il strappo di verde di qua è ah non si è andato verso le strutture con le palle di verde non mettono il tonio non si fanno un po' la batteria non è ancora vai la batteria non è ancora finita questa io meno male attacco stacco ma dovrebbe essercene perché stavolta attaccavo due minuti tre minuti staccavo quindi fino alla fine stavolta dovrebbe esserci bene ragazzi siamo alla fine finalmente stavolta stavolta beh ma il problema è quello lì che è Oggi e oggi ah beh lì appena oggi lì mi ha aperto perchè ho detto che non chiudeva non c'è niente da fare eh? non c'è niente da fare oggi non voglio bisogna avere una ricarica tecnologica da ventia si ma guarda io lì ho contenuto la ricarica da 10 ma non c'è 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 ma non c'è no in che ah kitty stramurt eh ragazzi si giusti giusti perché mi chè si io io a i io Grazie a tutti